Ciao, mi chiamo Giuseppe Randazzo, classe 91. Sono alto 1,86 m e nella vita sono un attore e un doppiatore, diplomato presso il Teatro Biondo Stabile di Palermo. Rivengo di essere un ragazzo semplice e le persone che mi conoscono dicono che sono un ragazzo all'antica. Sono abbastanza d'accordo con loro. Queste sono le mie mani. Questi sono i miei profili. Grazie. Grazie.